Aggredito da un rapinatore in viale Cittadini, vittima un giovane di 17 anni originario del Bangladesh, mentre stava camminando è stato avvicinato dal rapinatore che dopo averlo aggredito gli ha strappato dai pantaloni il telefonino cellulare e si è fatto consegnare anche soldi in contanti all'interno del portafogli. Il ragazzo ha provato anche a reagire e resistere alle richieste del suo aggressore ma è stato minacciato con un bastone. La vittima ha subito chiamato i carabinieri che intervenuti tempestivamente hanno iniziato le ricerche nella zona. Sono riusciti ad individuare e identificare l'aggressore all'interno del parco del Pionta. L'uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della refurtiva e arrestato. Si tratta di un 22enne originario del Gambia che adesso si trova presso il carcere a Rettino di San Benedetto a disposizione dell'autorità giudiziaria. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.